La Puglia ha fatto l'amplendi di conoscimenti alla 24esima edizione del premio dei maestri oleari Leondoro assegnato nell'ambito di Tutto Food alla Fiera di Milano. Al vertice della categoria fruttato intenso un olio prodotto a giovinazzo nel barese, mentre per la categoria estera si è affermata una produzione olearia spagnola. A seguire per l'Italia premiati oli di Bronte, Catania, Spinetoli, Ascoli Piceno e Ponte Benevento. Un olio prodotto a Martina Franca, Taranto, è il primo classificato nella categoria fruttato medio, seguito da una produzione abruzzese, tre siciliane ed altre tre pugliesi. Mentre fra i fruttati leggeri massimo riconoscimento ad un olio di Borgo Incoronata, Foggia, seguito da due oli della provincia di Reggio Calabria ed uno di Grottaglie, Taranto. Ora la Puglia, commenta il presidente del Consorzio dei Frantoi Artigiani, Stefano Caroli, rappresenta una realtà produttiva all'avanguardia nella produzione olidicola e olearia. Una Puglia che non si limita a comprare solo l'ultima tecnologia disponibile nel comparto, ma investe in qualità, ricerca e marketing. Una Puglia che lotta con ardore contro una grave emergenza fitosanitaria chiamata xylella fastidiosa.